good morning good morning total wealth buongiorno a tutti quanti vi prego di aggiungermi in tutti i miei profili che sto creando per motivi che facebook mi blocca tutti i profili neanche li faccio e me li blocca attendiamo tempi migliori finché facebook regoli questi meccingegni che dei programmi di ristrettezza non adeguati alle nostre esigenze ma adeguata alle esigenze di facebook perciò vi chiedo di aggiungermi ogni qual volta vedete un mio profilo angelo piccone con la mia foto in sbariate foto non createvi problemi se ne faccio molti e vi disturbo ma lo faccio perché devo se non altrimenti non posso trasmettere a dio se la loda e la gloria in cristo gesù una piccola preghiera e perché poi vado via a lavorare padre santo dio d'amore ti voglio lodare ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita benedice ancora tutto il mondo che possa trovare grazie nei tuoi occhi nel tuo amore nel tuo spirito ti ringrazio padre nel nome di cristo gesù che tu l'hai benedetto in eterno amen pace del signore se dio volendo ci sentiamo più tardi amen ciao